La più antica residenza reale d'Europa, un luogo unico al mondo con una storia che parte dai fenici e arriva a fine giorni nostri, passando per gli arabi, i normanni, i bizantini, i spagnoli. Un centro di un linguaggio quasi universale, complicato come è complicata la lettura della realtà. E' il Palazzo Reale di Palermo. E dalle sue sale, dalla fondazione che si prende cura di questo luogo e che lo rende vivo per i visitatori ogni giorno, parte il nostro viaggio di Linea Oro, speciale Artbox nell'Italia che innova attraverso l'arte e la cultura. Senza la produzione di cultura un sito, per quanto bellissimo, per quanto magnificente, diventa un contenitore. Qui sembra di essere in una porta che collega a mondi incredibili, come se questa fosse una porta dell'infinito. Una visione soprannaturale, il massimo che un uomo del Medioevo possa avere. Ci siamo approcciati a Palazzo Reale perché è in Sicilia uno degli accentratori culturali più importanti, partner ideale per lo sviluppo di un progetto innovativo. Il mondo della cultura ha fatto bello il mondo, ha fatto belle le civiltà e può migliorarci. Sono Cesare Biasini Selvaggi e vi parlerò di fondazioni, di imprese culturali, dei mecenati, dei filantropi, dei grandi artisti, designer e artigiani che rendono il nostro paese davvero unico, prezioso e competitivo nel mondo.